Possiamo tornare al ristorante, possiamo tornare nel ristorante in tutta sicurezza perché ormai le norme e le prassi di sanificazione sono così complesse, così diciamo che non c'è posto forse più sicuro, insomma, forse l'ospedale credo, speriamo. Dopo due mesi di lockdown e consegne a domicilio anche i ristoratori provano a ritrovare una nuova normalità tra distanziamento dei tavoli fuori e dentro per chi può, sanificazioni, mascherine, guanti, gerigenizzante, facendo andare a braccetto le regole e il piacere di ritrovare la buona tavola toscana. Il ristorante è un po' cambiato, non è cambiato certo nell'assaporare i piatti, nell'assaporare i gusti, nel convivio, però è cambiato nelle regole un po'. Quando arriviamo sarebbe meglio aver prenotato, questo è ovvio perché così vi lasciamo il vostro tavolo, che sono già meno perché distanziati, noi abbiamo tenuto una distanza media di almeno un metro e trenta, un metro e quaranta ogni posto, anche allo stesso tavolo non è sotto il metro e venti, quindi i posti ovviamente sono diminuiti, abbiamo ampliato il fuori per dare anche questa possibilità sia di pranzo che di cena, però adesso all'avistorante quando arriviamo ci mettiamo al tavolo e in quel posto assegnato dobbiamo stare, perché ogni volta che ci alziamo dobbiamo mettere la mascherina, sia per andare ai servizi, sia per andare alla cassa a pagare, è preferibile rimanere anche lì fermo al tavolo fino a che non ci portano il conto e paghiamo lì. Non c'è alcun limite né prescrizione rispetto a quante persone o con chi possiamo andare a cena fuori, considerato però che la distanza minima tra commensali è di un metro e lo stesso tra sedute di tavoli diversi, difficilmente i ristoratori saranno nelle condizioni di poter offrire tavoli per più di sei persone. Trovare un altro tavolo vicino dove si possa fare comunque conversazioni, stare insieme, fare convivio, quello che è importante fare dentro l'istorante, però non allo stesso tavolo perché tentiamo di fare il meno assemblamento possibile. Ovviamente non si deve mantenere la distanza di sicurezza di un metro con le persone con cui si coabita, in questo caso sarà responsabilità del cliente comunicarlo al ristoratore e chiedere di farsi preparare un tavolo. Noi non abbiamo il potere, non abbiamo nemmeno ovviamente la voglia di sapere con chi uno viene, non siamo carabinieri, noi siamo gestori di ristoranti, siamo qui per far star bene il cliente, il meglio che possiamo e quindi ognuno deve essere responsabile di se stesso. L'unica cosa che possiamo fare è fare questo tipo di distanziamento, se vieni con un amico che non vuoi stare allo stesso tavolo gli diamo i due tavoli vicini ma non a distanza di oltre un metro, insomma, questo è quello che noi possiamo fare. Questo ristoratore ha deciso di andare avanti anche con le consegne a domicilio, non solo per le aziende ma anche per le famiglie, in attesa di lasciarsi definitivamente alle spalle tutto questo.